più di duemila persone di tutta l'età da tutta italia da nord a sud sono passate per la scuola di formazione politica in questi anni più di cento insegnanti docenti formatori senza plexiglass senza l'azzolina e confronto di idee studio elaborazione apertura mentale molti di loro hanno acquistato ulteriore passione politica sono diventati consiglieri comunali sindaci amministratori a tutti i livelli a gennaio si riparte con delle borse di studio per chi non ce la fa a sostenere tutti i costi ed è il bello del confronto quello che serve in italia in questo momento per ricostruire non servono pregiudizi chiusura mentale arroganza serve la voglia di capire di approfondire di pensare di conoscere di creare quindi scuola di formazione politica punto it per trovare tutto quello che è successo negli anni passati ma il bello deve ancora venire contiamo su di voi